Sì, buongiorno a quanti seguono questa edizione del nostro giornale. In apertura vi ricordo che filo diretto la nostra trasmissione in onda dalle 12 alle 12.30 riprenderà dopo la pausa estiva, lunedì 2 settembre, sempre alla stessa ora e sempre su TeleCity 7 Gold. Ed ora parliamo del lancio risorse Piemonte su Tave Terzo Malico, c'è l'intesa dei parlamentari sulle tre opere da eseguire ma i fondi sono congelati. Così il ministro Lupi gela anche il Piemonte blindando il decreto del fare e venerdì il governatore Cota sarà dal premier Letta a Roma. Il servizio di Roberto Monteriso. Le risorse chieste dal Piemonte nell'ambito del decreto del fare rischiano di restare nel cassetto. La notizia è direttamente da Maurizio Lupi, ministro delle infrastrutture nel governo Letta, non molto propenso a risarcire il Piemonte. Degli oltre 2 miliardi del provvedimento, 1,4 arrivano proprio dal Piemonte, fondi temporaneamente sottratti alla TAV e al terzo valico. Non a caso Roberto Cota ha sollecitato al premier un incontro fissato per venerdì per chiedere un lungo elenco di cose, dalla garanzia che le risorse prese a prestito vengano reintegrate all'assegnazione di circa 200 milioni, pari al 10% dei 2 miliardi del fare. Cifra vincolata a progetti precisi, sui quali c'è una convergenza degli enti locali e dei parlamentari piemontesi. Un'eventualità, secondo Lupi, così gli emendamenti presentati dai parlamentari piemontesi saranno considerati nel secondo riparto, forse da gennaio 2014. Roberto Cota non l'ha presa bene e intende aumentare il pressing su Palazzo Chigi. Con i 200 milioni sono due le priorità. Il primo è la copertura superficiale del passante ferroviario di Torino per un ammontare di 25 milioni di euro, caro a Fassino. Il secondo è la ferrovia Galliate Malpensa, 78 milioni, che garantirà un collegamento tra la provincia novarese e il principale scalo del nord Italia. Inoltre la Regione chiede allo Stato di versare 80 milioni dei fondi FAS anticipati da Piazza Castello per due progetti che hanno interessato il torinese, ovvero il prolungamento della linea 1 della metro in Piazza Bengasi e il collegamento della ferrovia Torino Ceres con la stazione Re Baudengo e il passante tramite il tunnel sottocorso Grosseto. Con quei soldi dovrebbero essere finanziate opere minori segnalate dalle province, a partire dall'edilizia scolastica e dalla manutenzione stradale, come la variante Lobardore Front e la messa in sicurezza della pericolosa strada 460. E parliamo ancora di grandi opere, in particolare di Terzo Malico per roviario, che nella zona del Novese interesserà una serie di cambiamenti sulla viabilità del territorio. Intanto il neopartito comunista dei lavoratori ha ribadito la sua totale contraddietà all'intervento. Ce ne parla Enrico Mariano. Il Terzo Malico continua a far parlare di sé. L'ufficio tecnico della provincia, infatti, ha comunicato di aver ordinato la proroga dell'ordinanza di istituzione di un senso unico alternato e della limitazione della velocità a 30 km orari lungo le provinciali numero 160 della Vallemme, dal chilometro 15 al chilometro 26, lungo la numero 161 della Crenna e la numero 163 della Castagnola per tutta la loro estensione dal 1 luglio al 31 dicembre 2013, dalle 8 alle 18 di ogni giorno lavorativo. Attraverso cantieri temporanei mobili diurni con un'estensione massima di 100 metri per consentire il taglio di alberi e le operazioni di bonifica da ordini e residuati bellici su strade in cui sono previsti adeguamenti della carreggiata nell'ambito della realizzazione del Terzo Malico dei Giovi. Il Consorzio Kociv, riporta la nota della provincia di Alessandria, provvederà all'installazione dell'apposita segnaletica regolamentare. Sull'opera intanto a Novi Ligure si è espresso il neonato Partito Comunista dei Lavoratori, che ha ribadito la sua totale contrarietà all'intervento e ha informato che farà un'intensa campagna di sensibilizzazione, controllando ogni atto amministrativo presso i residenti dei comuni interessati al passaggio della linea. La Forza Politica ha inoltre reiterato il proprio giudizio negativo sulla moratoria proposta da 12 sindaci del territorio. A fine aprile, sempre sul tema, la seduta del Consiglio Comunale Novese dedicata al Terzo Valico Ferroviario, tenutasi eccezionalmente presso la Sala Conferente della Biblioteca Civica, approvò con un emendamento l'ordine presentato dalla Giunta. Quest'ultimo ribadiva la richiesta di moratoria presentata da 12 sindaci territorialmente interessati al progetto della linea ferroviaria e formulava al Governo una serie di istanze. Innanzitutto, prima dell'avvio dei lavori del primo lotto, si chiedeva di imporre a RFI e Kociv la presentazione di studi dettagliati relativamente alla presenza di amianto nelle aree di scavo, a rischio di isterilimento delle fonti idriche, al trasporto dello smarino sulle linee ferroviarie esistenti anziché su gomma e un piano completo sulla logistica. Le altre richieste riguardavano una rappresentanza agli enti locali con diritto di voto negli organi tecnici e politici e la localizzazione sul territorio interessato dall'osservatorio ambientale e dall'istituendo osservatorio tecnico. Nel servizio che vedremo fra poco realizzato da Bruno Mattana sentiremo gli ultimi sviluppi sulle proteste messe in atto dalla popolazione ovadese per dipendere l'ospedale locale che sarà interessato da lavori di rifacimento delle strutture antincendio. Vediamo il servizio. Anche se l'ospedale di Ovada con i suoi problemi messi recentemente in evidenza nel convegno indetto dall'osservatorio attivo Onlus per la sanità di cui è presidente padre Ugo Barani fa vivere giorni di ansia e di preoccupazione per il futuro a causa di uno smembramento di servizi e di reparti qualcosa si fa per rendolo più sicuro. Mentre l'osservatorio attivo ha presentato un ricorso al TAR per riavere il pronto soccorso nella formulazione precedente e non come l'attuale punto di primo intervento raccogliendo firma d'Ovada e in tutti i comuni del territorio a breve nelle parti sottostanti della struttura ospedaliera interrati e seminterrati dovrebbero iniziare i lavori di rifacimento del sistema antincendio. L'impianto esistente ha i suoi anni e non è più adeguato alle nuove norme in merito. La SL ha approvato il progetto esecutivo e l'indizione della gara di appalto per assegnare i lavori. Alla base dell'intervento le anomalie dell'impianto che sostiene l'azienda sanitaria possono pregiudicare il corretto funzionamento. La centrale antincendio dell'ospedale ovadese infatti risale al 1990 e sempre addetta della SL i ricambi necessari alla sua riparazione non sono più reperibili. Nel 2010 era stato effettuato un sopralluogo da parte del tecnico addetto della SL che aveva rilevato l'urgenza del rifacimento dell'impianto. La spesa complessiva prevista è di circa 110 mila euro, anche se poi ci saranno i ribassi d'asta. Sono in corso, come abbiamo già avuto modo di dirvi, gli orali degli esami di maturità in tutta Italia. In provincia di Alessandria era salito agli onori della cronaca nazionale il caso del liceo scientifico Pascal Liovada, all'interno dei cui bagni erano state trovate le soluzioni della seconda prova scritta, quella di matematica. Ieri sono iniziati gli esami orali nella sezione B all'indirizzo scienze biologiche, mentre gli studenti della A all'indirizzo informatico hanno ultimato proprio ieri i colloqui. Questi ultimi si erano chiamati fuori dalla vicenda poiché i risultati trovati in bagno non riguardavano la loro prova, differente dalla sezione B e dalla D. Anche se la prova di matematica alla fine non era stata invalidata, i voti dello scritto hanno avuto pesanti riscontri sugli studenti della B, con una valanga di insufficienze. Nei prossimi giorni arriveranno anche gli esiti della sezione D. E siamo alla cronaca giudiziaria. I direttori dei lavori della transgenziale Alessandrina, dell'ANAS, dell'AIPO e di alcuni cantieri di lavoro compariranno in Tribunale d'Alessandria il 18 luglio. Nei loro confronti il gruppo per le udienze preliminari contesta il reatto presunto di inondazione. Secondo l'accusa, infatti, i quattro avrebbero scagionato, scusate, i quattro avrebbero scagionato l'inondazione delle aree periferiche del quartiere Orti causata dall'alluvione del 2009, i particolari nel servizio di Emma Camagna. L'alluvione di fine aprile 2009, non certo disastrosa come quella del 94, recodanni in alcune zone. In primis, regione Cascine Sparse. Le Cascine Isolette Mezzano vennero inondate dalle acque del Tannero che avevano sfondato l'argine invadendo, nel primo caso, anche l'abitazione. Colpa solo della pioggia così abbondante? No, per l'accusa che contesta a quattro tecnici il reatto di inondazione. Sono Carmine Testa, direttore dei lavori della tangenziale di Alessandria per conto dell'ANAS tra luglio 2003 e marzo 2008, Andrea Vallone, entrambi di Genova, direttore del cantiere fra maggio 2003 e settembre 2006, Paolo Della Ratta, Nocieri Inferiore, direttore tecnico dei lavori, Bruno Brunetti, Bologna, direttore dell'Aipo, prima vicario, poi effettivo. Sono citati il 18 luglio davanti al gruppo per l'udienza preliminare. Dice l'accusa che cagionarono l'inondazione delle aree periferiche del quartiere Orti, specie dei terreni tra la tangenziale e l'area aeroportuale, perché per costruire la tangenziale fu tagliato l'argine del canale Carlo Alberto sulla spunta destra col proposito di ricostruirlo come avvenne dopo aver realizzato l'impalcato del viadotto. Ma i piloni non erano abbastanza elevati, non si potesse guire l'opera di compattazione dell'argine e quando arrivò alla piena la protezione si frantumò sotto il peso dell'acqua che invase le due cascine. I quattro inquisiti dicono invece che l'acqua del fiume scavalcò l'argine anziché romperlo. Ancora un caso di stalking davanti ai giudici del tribunale di Alessandria. Un uomo lasciato dalla fidanzata si è vendicato danneggiandole la vettura. Vediamo il servizio. L'ultima che ha fatto è stata quella di sfasciarle l'auto. L'ha fatto a mani nude tirando pugni e calci alla Smart che l'ex fidanzata aveva parcheggiato sotto casa. L'uomo ha fatto di tutto per riconquistarla con affetto e con rabbia ma visto che né con le buone né con le cattive c'era verso si è sfogato con la vettura. La ragazza ha chiamato i carabinieri e quando è stato rintracciato l'uomo ha cercato di reagire ma poi si è lasciato convincere ad andare al pronto soccorso perché dopo l'accanimento a mani nude contro la Smart se le trovate ferite e insanguinate. L'Alessandrino è finito nei guai per stalking, è stato incriminato anche per resistenza a pubblico ufficiale, sarà processato in abbreviato nelle prossime settimane. Secondo l'accusa, nel momento in cui la relazione sentimentale si era interrotta, telefonava continuamente alla ex, le inviava messaggi, non le rispermiava epiteti ingiuriosi quando la incontrava. Cordoglio in questura ad Alessandria per l'improvvisa morte dell'ispettrice della Polizia di Stato Elisabetta Barisone, aveva 47 anni ed era mamma di due bambine. Il decesso è avvenuto questa mattina in ospedale ad Alessandria dove l'ispettrice di Polizia era stata ricoverata l'altra sera per un presunto aneurisma. Allora cambiamo argomento. Nell'epoca del digitale, offrire la possibilità di collegarsi gratuitamente con Internet a chiunque sia in possesso di uno smartphone oppure di uno tablet o computer portatile e uno strumento di libertà che offre molti servizi di informazione a cittadini e turisti e che aiuta ad incrementare anche l'economia locale. A febbraio il presidente americano Barack Obama ha lanciato la grande sfida a scoprire gli Stati Uniti con una gigantesca e potentissima rete Wi-Fi da costa a costa, naturalmente tutto gratuito. Ma anche il comune di Milano ha già investito in oltre 500 hotspot che permettono il collegamento gratuito ad Internet in quasi 300 piazze, vie e altri punti di interesse della città. Anche Alessandria comincia a muoversi e rompe il ghiaccio con alcune postazioni in Piazza della Libertà e in biblioteca, come ci racconta Lele Vinci. Da questo lunedì, primo luglio, anche in Piazza della Libertà è possibile fruire del Wi-Fi libero a tutti. Da adesso quindi ci si potrà connettere gratuitamente alla rete tramite PC portatile, tablet o smartphone su tutta l'area della piazza. L'iniziativa è del comune di Alessandria, assessorato all'aggregazione sociale, in collaborazione con l'azienda di telecomunicazione Kick-Off che ha accolto l'appello del comune che, mancando di disponibilità economica per via del dissesto, ha chiesto una sponsorizzazione alla società Alessandrina Kick-Off che da circa 10 anni opera nel territorio nell'ambito delle comunicazioni. La sperimentazione era già iniziata presso la biblioteca civica Francesca Calvo all'inizio del mese scorso. Per collegarsi in Piazza della Libertà e in biblioteca basta cercare la rete Wi-Fi che si chiama Stella, chiedere il collegamento ed inserire quindi il proprio numero di telefono oltre al proprio nome. A quel punto arriverà un SMS con il codice per collegarsi ad Internet. Una volta registrati, sarà possibile tra l'altro collegarsi gratuitamente molti altri punti esistenti in provincia già installati dall'azienda Kick-Off come a Novi Ligure, Borgolatto, Solero, Cremolino, Trisobbio, le piscine del Lavagello di Casteletto d'Orba e molti altri punti ancora. Simone Bigotti, amministratore delegato di Kick-Off, ha spiegato che attualmente il progetto è stato attivato in fase sperimentale per due anni. L'accesso consentirà due ore gratuite di effettiva navigazione al giorno. L'assessore all'aggregazione sociale Gianni Valdi ha commentato sono molto lieto di questa opportunità che l'azienda Kick-Off ci offre e che è la testimonianza della direzione in cui vogliamo andare. La scelta della piazza non è casuale ma vuole essere uno spunto per rivitalizzare un'area che non deve essere adibita solo a parcheggio ma diventare una zona di scambio e socializzazione. Il progetto prevede a breve il censimento di tutti gli esercizi commerciali che offrono il Wi-Fi libero per inserirli in un database da pubblicare sul sito del Comune. Il Consorzio per l'Energia e Energal di Compindustria Alessandria e Alegas SRL il gruppo Amag Alessandria hanno rinnovato il contratto per la fornitura di gas metano alle aziende associate ad Energal per il 2013-2014. Con questo contratto Alegas SRL si è giudicata per la terza volta consecutiva la fornitura di gas metano e alle aziende del Consorzio Energal di Compindustria Alessandria. Questa realtà opera da 13 anni anche nel settore dell'energia elettrica a 9 e a 60 aziende aderenti con forniture di circa 150 milioni di kilowatt ed oltre 10 milioni di metro cubo di gas. Bene, fra poco la pagina sportiva come sempre curata da Gianluca Ardiani che ci parlerà degli ultimi aggiornamenti sul calciomercato dell'Alessandria Calcio e poi sentiremo come sarà il tempo nelle prossime ore e gli appuntamenti. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.